Possiamo dire che non c'è già stato detto, faccio un lavoro incommiabile che lo continuate a fare anche da agenti in piacenza e di tutte le persone fantastiche, io respiro polizia da quando sono lato perché sono figlio di poliziotti e quindi per me essere qui è veramente essere in famiglia, la mia testa invece sarà nel 1990, quindi ormai sono 30 anni che sono socio sostenitore di questa grande associazione e adesso sono anche il sindaco di Piedra e ho la fortuna e l'onore di avere la polizia che tiene l'ordine pubblico in città e con sul vostro costantemente rapportato e lo fate talmente bene che non c'è nemmeno necessità di sentirci tantissimo Prendiamo una volta due mesi è più che sufficiente perché quest'ora, grazie anche a tutti voi, fa un lavoro eccellente quindi cosa posso dire? Grazie, buon Natale a tutti e viva la polizia!